Il Bologna, amici, il Bologna! Allora, tutto a regolare, tutto a posto. Il Bologna gioca una partita dirigente, con i giusti equilibri, attenta, con grande concentrazione, vince 2-0, poteva anche essere 3-1. Ma non cambiavano le cose perché il Bologna non solo migliora in questo momento notevolmente la sua classifica, ci arriva fra poco, ma annulla anche il vantaggio che il Cagliari aveva nel confronto diretto. Ora, 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 allora, dopo i voti, però intanto cito Scorucchi, Taikas, Soriano e Orsolini, fra quelli che poi bisognerebbe citarli tutti, tutti bravi, eccellente Mialovic, finalmente abbiamo un allenatore, che fa i cambi giusti. Io avrei voluto sempre Orsolini e Destro. Orsolini è uno che deve giocare sempre! Destro, e qui il discorso ci fa più delicato, perché nel momento in cui Santander dopo 20 minuti deve uscire, che si fa? Allora, 99 su 100, 99 allenatori su 100, mettono l'altro centro avanti. Cioè, Destro invece, invece, Mialovic ha votato per Palacio, punta semovente, con tanti trequartisti, con un'ala, eccetera, e ci ha azzeccato, ci ha azzeccato la classifica. Allora, zero punti per il Fosinone, zero punti per il Chievo, zero punti per il Genoa, zero punti per la Spal, zero punti per il Cagliari. Se putacaso, come noi tutti ci auguriamo, la nuova Roma batte domani sera l'Empoli, la classifica del Bologna sarà enormemente migliorata, perché tu puoi ancora essere terz'ultimo, ma ha un pelo pelissimo e dal quart'ultimo posto e anche dal quint'ultimo. Voti, Scorupchi sette, ha fatto una parata alla Gordon Banks, una parata eccezionale, su una palla che poteva costarcare al Bologna, perché quando quelli del Cagliari saltano, quelli del Bologna hanno i piedi nella paluda e non saltano. Poi, Baie, sei più, meglio quando avanza che non quando difende. Dijks, miglioratissimo, sei a mezzo. Poi, 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 poi. Soriano, non è che abbia fatto una gran partita. Bel gol, sette, è quello che conta. Andiamo ancora avanti. Pulgar, non ha fatto una gran partita, no, un rigore impeccabile. Pulgar, sei a mezzo. Orsolini, determinante il suo ingresso. Sei a mezzo. Palacio, sei più. Sansone ancora indietro. Sei. Danilo, sei più. Il brasiliano, Lancio, sei più. Vota l'arbitro, vota l'arbitro, il Rati, sei più. Vota il Bologna, sei a mezzo. Non esageriamo, un bel sei a mezzo. Tondo, voto al Cagliari, sei. Una partita vera, il Cagliari non si è mai arreso e in qualche momento ci ha anche, ci ha anche preoccupati. Ora, la media punti gara per Mijailovic è 1,17. Con 1,17 di qui alla fine del campionato ti salvi di sicuro. Ma, siccome c'è l'endica di quella mediaccia del Bologna di Inzaghi, il Bologna è ancora a 0,80. A 0,80 non ti salvi. Per cui, non dico che Mijailovic di qui in avanti debba fare 1,17. Basterebbe che facesse 1,08, 1,07 e il Bologna si può salvare. A questo punto bisogna crederci, ma non per ottimismo, come fanno tanti tifosi, il cuore rosso-blu. No, no, no. Bisogna crederci guardando soprattutto il calendario. Non era presente Gio Saputo, chi se ne strafrega, perché c'era il vero presidente del Bologna, cioè il papalino, perché il papalino è il proprietario dell'azienda. Gio Saputo è soltanto il ricco figlio di papà. E papalino, alla fine, quando gli dicevano cercate di essere qui spesso, eccetera, salendo, papalino che a vent'anni andò in America, che dall'America lo spostarono poi in Canada a spingere dei carattini di mozzarella, è così che ha fatto i denari. Bene, papalino ha risposto, ci saremo sempre. E questo penso che per la tifoseria. Però io direi, papalino, allora fai una cosa, cerca di intervenire tu più spesso, perché tuo figlio non ha dimostrato grandi capacità. Va bene. Ancora una cosa di calcio. 20.000 di multa al ciolo, martedì sera, Juve, Atletico, per il gestaccio. Quale gestaccio? Quello di rivolgersi alla propria curva dicendo noi abbiamo gli attributi. E mi meraviglio che qualche sommo, sommo giornalista o figlionista, si sia scandalizzato. Anche nel giornalismo ci sono troppe vergine incinte. Andiamo avanti. Basket. La Virtus perde di due. Va ancora più indietro. Ma il problema non è tanto la sconfitta che a Cantù ci può anche stare. È come è stata gestita la faccenda di Sacripanti. Decapitato. Già Giorgiovic. No, Giorgiovic non si sa se viene. Della Salda, che fra poco anche lui sarà decapitato, che dichiara chi è Giorgiovic. Non lo conosco. Beh, no, eh. Danetti e Baraldi. Le cose si devono gestire un pochino meglio. Non so ancora il risultato della fortitude, abbiate a patente, perché non riesco a seguire tutto, però invece so il risultato del MotoGP, dove fino all'ultima curva, Dovizioso e Marquez si battono allo stremo, vince Dovizioso, Valentino è già un miracolo. Quinto classificato, quasi mai riuscirà ad andare sul podio. Vedrete se mi sbaglio. Le ragate della Mattei Plus giocano una partita stupenda nel derby contro Fenza. 7-6, 6-0, più 16, tutte bravissime, terzo posto consolidato. E francamente, per tanti motivi, non mi sento di aggiungere altro, se non che il CRB era pieno a zeppo, grande tifo, grande spettacolo, e per forza di cose, molti sanno il perché, ma soprattutto il perché lo so io, mi devo fermare qui. Ma, 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 adesso arriviamo a un ragazzo che io conobbi, quando lui aveva 18-19 anni, nel 1900, boh, cos'era, 67-68, e che io conobbi, io che avevo 12 anni più di lui, e che vedevo al basket già da 20 anni, perché qualcuno mi disse, a Bologna ci sono due giovanotti, ventenni, fenomenali, per i settori giovanili. Uno si chiama Ivano Toccadelli, l'altro si chiama Alberto Bucci, che poi ho conosciuto, che poi ho frequentato, Alberto Bucci, esordì come vice di guerrieri, di dito guerrieri a certi livelli, diventò allenatore della Fortitudo, fu, dovette retrocedere, perché tale Paolo Rossi, in un incontro Fortitudo-Pesaro, al suono di sirena, fece canestro e condannò la Fortitudo, allora, Bucci andò via, ha fatto la sua gavetta, l'ha fatta Fabriano, a Livorno, Alberto Bucci, un grandissimo, sfigatissimo dalla nascita, poliomialitico, vince uno scudetto a Livorno, vanno allo sfogliatoio a festeggiare, gli vengono a dire agli arbitri, c'è stato un errore, lo scudetto è di Milano, però a Bologna ha vinto, nello sport, più scudetti di lui, soltanto l'allenatore del Bologna, Ehrman Felsen, Bucci, grande personaggio, e poi, lo scudetto, della Stella, e poi l'intuizione, del grande Gigi Porelli, che lo avvole qui, così come volle Ettore Messina, allora di Alberto Bucci potrei dire migliaia di cose, ne voglio dire soltanto due, una, questo mondo di lati, di stupratori, di relinquenti, lui era una bella persona, era una persona molto perbene, intelligente, dialettico, anche quando io e lui, duellavamo, parlando di politica, lui di qua, io di là, oppure io di qua, lui di là, vabbè, non scendiamo nei dettagli, trovavamo sempre poi, un punto di intesa. Seconda cosa, oggi, oggi, su Repubblica, il collega, brillantissimo, Luca Bottura, ha scritto, quando c'è una notte stellata, c'è una stella in più, è la stella di Alberto Bucci, che ha dovuto lottare per tutta la vita, sempre sapendo reagire nel modo più giusto e virile. io voglio aggiungere, che quando Villa Alta, buon amico, Brunamonti, nella notte stellata, guardano appunto in cielo, vedono una stella, più luminosa delle altre, in questa stella, ci sono, due grandi, 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 Alberto Bucci, Gigi, Porelli, non vi sento di aggiungere altro, potrei parlare per ore, 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 minchino, di fronte al dolore, della famiglia, e mi tengo, i migliori ricordi, di uno che, un giorno, gioca un derby, senza Danilovic, io lo incontrai in piatta maggiore, e gli disse, Alberto, qui si perde, senza Danilovic, lui mi guardò, tu perderai, io vinco, anche senza Danilovic, e vinse, amici cari, a domani sera, col punto, per il pallone, nel 7, Forza Bologna!